In un venerdì caratterizzato da tante partite delle nazionali, tra amichevoli, spareggi e qualificazioni mondiali per le squadre sudamericane, la truppa di Conte ha proseguito la preparazione a Vinovo. Dopo la sgambata di ieri pomeriggio contro il Savona, in questa giornata numericamente particolare, il tecnico bianconero ha diretto una seduta matutina. Al gruppo rispetto a ieri si sono aggiunti due giocatori, dai rispettivi ritiri sono infatti rientrati Arturo Vidal e Andrea Barzagli. Il centrocampista cileno ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni. Il difensore ha invece iniziato un lavoro differenziato per smaltire la contrattura manifestata in nazionale e confermata dagli esiti degli accertamenti medici svolti questa mattina a Torino. Domani, sabato 12 novembre, è in programma un'altra seduta matutina, l'ultima prima di due giorni di riposo di cui godranno tutti i bianconeri. Si tornerà al lavoro martedì prossimo, ancora senza i nazionali e a cinque giorni dalla ripresa del campionato, prevista per domenica pomeriggio con la sfida casalinga col Palermo. Allora, diamo il benvenuto ad Alexander Manninger, ti ritroviamo nel nostro format. Anzitutto volevo chiederti come sta andando la tua preparazione, come ti senti insomma? Io mi sento bene, stiamo lavorando e speriamo di fare qualche cosa bene per il più lungo possibile. Siamo pronti eventualmente per vederti nel campo e soprattutto ti analizziamo molto da vicino anche grazie all'opera dei nostri operatori. In particolare c'è un allenamento molto intenso che viene dedicato ai portieri giornalmente. Sì, quello fa un po' parte perché noi dobbiamo essere allenato su di tutto, diciamo, su tutta la parte del corpo, su tutte le azioni del gioco, anche con i piedi, forse con i mani e tutto deve essere proprio un lavoro completo, diciamo, perciò siamo molto impegnativi. Abbiamo visto in azione l'amichevole contro il Savona, due grandi parate, a cui ci hai abituato già diverse volte. Sì, no, era il più piacevole era da giocare per 90 minuti da tanto tempo, perché siamo in tanti e il posto è solo uno, importa, diciamo. Mi è piaciuto di aver preso 90 minuti in pieno, diciamo, sì. Senti, che campionato stai vedendo dal tuo punto di vista? Come sta andando la Juventus e come vedi anche le concorrenti? No, io direi il campionato di quest'anno è molto passo, però vedo, perché sta vedendo ogni giorno la nostra squadra e vedo uno Juventus molto, molto moderno, molto, molto, diciamo, pronto per fare delle cose come si dovrebbe fare, diciamo. Credo che dopo due anni un po' così, si sia trovato un modo di trovare proprio il gioco, il tipo di calcio moderno in una squadra, in un ambiente molto moderno, diciamo. A proposito, anche, insomma, il nuovo stadio della Juventus sta aiutando in questa prima fase, ovviamente, del campionato. Che emozioni magari hai provato nella serata dell'inaugurazione? No, era qualcosa di speciale, era uno stadio, negli altri paesi ci sono già in tanti, è uno stadio molto bello, molto stretto, diciamo, molto, molto, molto cinema, diciamo, molto, È un spettacolo giocare, esserci e vedere una squadra giocando come noi ora, perché a me il tipo piace tantissimo, è il tipo di calcio e credo anche i tifosi ti possono dare una mano in più per spingerti, magari specialmente in casa, Perché deve essere una forza nostra, uno stadio così, in un paese, magari, dove non ci sono tanti, come il nostro. Una giornata come tante altre, ma per alcuni, oggi, 11-11-2011, bisognerà aspettare fino a mezzanotte. Superata l'ora delle 11-11, in cui noi tutti eravamo regolarmente operativi, e aspettando le 11-11 serali, proviamo a restare concentrati sull'attualità. L'Under 21 di Ferrara, con la vittoria di ieri in Turchia, è ad un passo dalla qualificazione per gli europei, di categoria del 2013. Buona la prestazione di Marrone, in campo per quasi 80 minuti. Stasera toccherà invece la nazionale maggiore, respirare aria di europeo in Polonia, paese che a giugno ospiterà con l'Ucraina la competizione. Si tratta di un amichevole, ma lo spirito per guadagnarsi spazio e posto sarà da gara vera. Il blocco Juve fa registrare sei presenze, quattro saranno quelle titolari. Peppe e Matri partiranno dalla panchina, ma nella ripresa, e forse dal primo minuto con l'Uruguay, potranno diventare i punti di riferimento di un 4-3-3 alternativo. Le certezze, almeno per un tempo, passeranno dai guantoni di Buffon, protetto da Chiellini, ricollocato in mezzo alla difesa, dove lui stesso predilige giocare, e dalle giocate di Pirlo e Marchisio. Per il resto il match darà l'opportunità ad Abate di esordire, così come per Balotelli e Pazzini, insieme dal primo minuto. Non ci sarà invece Barzagli, in un primo momento convocato, e poi rientrato a Torino per curare una contrattura lieve al polpaccio sinistro. Capita una volta, ogni cento anni, di rivedere riflesso e identico il valore numerico delle cifre che lo compongono. 11-11-11, 11 novembre 2011 per l'esattezza, come cento anni fa, 11-11, in quel caso 1911. Una data più che simbolica, misteriosa e magica, che conserva al suo interno anche un po' di senso mitologico e interpretativo, anche nel mondo del calcio. Così come in ogni altro ambiente, a dire il vero, dove scaramanticamente si incroceranno le dita fino all'ultimo secondo. L'11, un numero di maglia che riporta molto agli anni del calcio in bianco e nero, dove primeggiava, allora come adesso, la maglietta da sogno col numero perfetto della decina. Il regista col numero 10, l'ala sinistra con l'11, fino al 1995, quando la numerazione fissa da 0 a 11 per i titolari venne liberalizzata ad immagine e somiglianza di ogni calciatore. Ecco allora che Bettega, Bobby Goll, fino all'83, la indossò parecchie volte, poi la prestò a Laudrup, Boniek, Möller e Casiraghi. Portò fortuna sotto porta anche a Penna Bianca Ravanelli, poi anche a Padovano e Fonseca. I più recenti ricordi però sono legati agli otto anni in cui quella maglia fu indossata da Pavel Nedved per ben 327 volte. E adesso, dopo Amauri, da un prodotto del settore giovanile, Paolo De Ceglie, e sempre per far volare la Juve dalla sinistra.